fino al tuo ultimo battito. Non lo sai perché, ma può capitare che una persona ti entri dentro. Parlate, ridete, vi guardate negli occhi e qualcosa accade. Senti che passa attraverso il tuo respiro, viaggia dentro il tuo essere, attraversa il cuore, sfiora le ossa e si infila nei gangli dell'anima e starà lì per sempre. Puoi non vederla per anni o mai più per tutta la vita, ma nulla nel tempo, nelle circostanze la faranno scomparire. È una persona a cui vorrei bene per sempre, sarà dentro di te con tutto il suo essere, dentro di te fino al tuo ultimo battito. Grazie. Grazie. Grazie.